non so come sono sopravvissuto a questo lak la rai eh me ne sono accorto posso tenere la eh tanto anche se ti vuoi darla via la scan è via finita adesso si gioca normale perchè siamo arrivati a round out eh ma ma cosa? ma perchè mi lagga quando sto sparando col drago? se stanno avvicinando non capisco è ripocco qua qua mi sto facendo schiacciare con i miei dai andiamo a vedere la sport aspetta aspetta fa li entra dentro e li fulminiamo fa entra dentro tanti tanto muoiono al distante e non li fa entrare ma si fulminano uguale si ma non si fulminano tutti li fa entrare e muoiono tutti assolutamente no non mi stai chiedendo il cane oi voglio i miei perk dell'olio fammi fare le kill come? come? tu non uccidi un cazzo e io uccido gli zombie e non mi devi fare venire da dietro però eh ho capito figlia non uccido un cazzo sii vabbè ma mi sto ricaricando devo ricaricare vai sparo te ma perchè i canigri? sei troppo lento e per tutti nemmeno quella quando siamo nei carini e io ne ho un colpo solo adesso e perchè sei scappato eh che figlia ci chiudiamo lì e allora rimanere solo da me oh lancia la cima che stanno a prendere il giag aspetta non l'ho ancora lanciata spero ho finito ho finito tutto spara una palestra che sto prendendo il giag e non lo voglio riperdere vai spara adesso che lo sto bevendo ho sparato ok il giag l'ho preso ho finito tutto eh e io ho finito i colpi della reagan ho il dragon però che quando spar mi lag la partita ho finito il giag l'ho preso però se ha giusto da pezzi da farci vedere con il dragon il dragon è merda oh non ho uscito l'ultimo che mi serve un'arma secondaria perchè ho finito i colpi della reagan ok va vai a cagare era l'ultimo quello che doveva uscire per la reagan mi accompagni dove? alla cassa si, ciao ci sono già arrivato io e allora e ma se vuoi se ma come? ma dammi quella foto 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 tutta wonderife oh siamo a rodotu record mondial eh 112 runner quel mondial in due cazzo ma perchè fare quei tanti round ma poi non crashano che cazzo dici come te io sono morto solo per colpa tua che invibirono le munizioni quando io ero morto hai paura ma poi che finchè avevo il primo colpi non ero morto una volta ma ma come? non è vero ci sono le proprie video audio appunto ci sono le proprie video audio tu fai cagare si sei morto nei primi ventina un quattro volte se non di più vabbè vai a vedere come sono morto poi vai a dimmi se sono delle morti normali ehi io sono morto sparando col drago non mi inizia la guerra della partita quando sparo col drago hai le proprie eh si dove? ehi potrei tornare a vendita nel tempo e poi fai 1 tu 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 hai fatto apparire della knella in quel momento basta sto cercando di fare una cazza che è di merda vabbè tornate un altro giorno non avviate paura oh ma figli dammi il fottuto quell'arma la non ho paura mi farebbe comodo una mano ma non l'arga c'è questa partita la vonde eh unizia 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 prendire prendire oh posso dire una spalla con la regola a raggi ma c'è tutto questo no no non uccide non uccide mamma mia che scape eh grazie c'è la palestra leina del cazzo eh sì che è madonna e non ci vuole niente eh vado a post amarlo che t'ammazzo no non mi picchiare troppo dalle no 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 però senza palestra saresti morto sì sì allora perché la palestra è tu easy bitch eh certo ma non la uso allora di arma giaca col falco mi sto giocando io ma smetti di giocollarti il calcio a me piace il falco io ho conoscere però se tu rispettai la challenge ma ma c'è ma c'è la challenge era finita quando tu hai fatto 7 casse ah ok ma le challenge possono cambiare è vero questa qua è una challenge che cambia durante le partite alla fine è un verbole non è eh praticamente è una partita modificata non è una vera challenge è una challenge un caforo si stanno avvicinando e alla fine tutti possono fare la win the challenge e fanno le regole che vogliono però bisogna cominciare con il fucile a pompa eh sì fino a un certo rampo puoi fare quello che vuoi quindi le challenge perché avevamo fucile a pompa sai come l'hai finita? quanto me l'abbiamo dato via io c'ho ancora il fucile a pompa sì ma il ghetti quello lì non merda una doppietta ma tra l'altro i miei punti me li sono rifatti sai quando ti perco uno oh lasciamo l'ultimo non ci ricambiamo le armi eh sì io c'ho 42 doppio sì sì io la rega me la do via vabbè fai un cazzo a sudare allora grabe anche tu cioè io ce l'ho sudato questa festa no la sto laggando ma dai io ce l'ho provato a scuola e mi lagg ah chi mi è che era un bel cazzo guardalo peccato che non sia il cinema che non so neanche io cosa ho fatto che era parte dall'uomo era... l'ho capito però ho io qua c'è 200 doppie eh rilascio ah sono riuscito a riprendermi i perk che adesso perderò ma io spero di trovarla a wonder ma io spero di trovarla a wonder guarda l'altra vita è magari perchè non mi... perchè non mi... perchè eri speciale 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 in genere più o meno che la tua cazzo in più l'hai fatta che la tua cazzo in più l'hai fatta devo prendere i colpi qui tranqui 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 sposi che cazzo sti carri di merda li stavo cittadino dietro i zombie allele tutti gli dicevano dietro e sono morti ting 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 ma sta spavano ancora, basta E' uscito un'altra volta al FAMAS, basta Che mi sono sparato sui piedi con la Rega Davvero E sono sopravvissuto Mi farebbe comodo una mano Oh ma sono infiniti 20-100.000 zoom Ok Per FAMAS non fa niente E' rimasto qualche zoom Io quando ne ho più, devo fare 4 colpi di Rega O lascia quelli Dovrei cassa Ce n'è uno dopo E' di qua la cassa segreta Ok sono 3 lì e ce n'è un altro tipo nella stanza del Thompson Please underwaffe Be good Non cidere che poi li rispanno a mare Voi a cagare dopo 3 ore ovviamente quando Eccone qua uno Qui c'è uno zombie Non c'è uno zombie Di nuovo Che era la mia idea E' ovviamente la stessa mia idea Guardando le STG No STG munizio ora è spaventato c'è cascato. Ah, molti più kill than love ah, non sei uno sproveduto allora vabbè, ma appena arrivo figo se mori non ti rialni come da tutto il disegno no non è più quello della mia vita c'è è una cazzo solo dovevi fare buco occhio non mi va faccio hanno rispetto alle regole sshh quante ne fate tutte quante ne vatte quante ne vatte quante ne vatte quante ne vatte un po' è la sua spoltazione quante ore che non abbiamo andato a dare un campionario del c se c'è se c'è se c'è la mia bocca eh che è e mi pericolo che dovessi venire da me avete visto che io c'è la wonderbuff si io wonderbuff non la voglio ora qua sono raro ora vedo stiamo a cercare di dire challenge spero perfetto eccolo la mia armata vado a girare iiii il tuo padrone lo prendo a calci in culo per chi mi segui? basta di win eh perchè è un win 2 capito sopra chi lui non lo può è felissima come andare bene la wonder wife meno male che sono giudicani perchè ho finito i colpi della reagan quindi la wonder wife si guarda ci devi stare adesso che ho finito tutti i colpi dai per me puoi andare vada per sé per sé partiamo stiamo a rompere il rumore il giro il giro il giro il giro domani che a scuola sono 12 40 se lo strano mi ha fatto perdere i miei video di case ah che ti ho fatto perdere? i miei video di case ma dai la la e io prima di dormire mi guardo i video e gli unici che caricano i video di notte sono che sai dei usci e i phase ma a me non piacciono tutti i phase alcuni non mi piacciono giusto anche a te mi sa tu li segui tutti se io seguo no 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 rinale si segui? philisadapt ah io philisadapt no e philisadex e basta io seguo philispioggia perchè rain a me costa poco dove che segui? philispioggia E' brutto, ma non so giocare Appunto, c'è le mod E' brutto E' brutto E' brutto E' brutto Ma va a cagare E' un giocatore come noi Come me A me sai che è pure padre quello E' vero Ma te è padre tipo Ah si Ma hai suo fratello eh Ma è suo fratello, c'è 30 anni di meno che è suo fratello E appunto ma se c'era scritto Cosa c'era scritto? Il nome del vino era Ismai Ma boi C'era scritto My Brother Ma boi Ma boi Oh ci stanno lì E' arriva una fratello Oh ma io non ho più sbatti di giocare tardi Devo andare a scuola io Ma finiamo a scuola non erci giugigliano Ok, con me i suicidi Io C'è la Wunder Mi le vorrei do anch'io dopo Io finiti guardate le Dele sano No Oh il Wunder Non è che c'è la Wunder Che quando sono chiuso mi uccide Gli zombie Ma non è che c'ho il Terribile Lawton Si ma me li uccide Aaaaaaah Niga 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 Tu c'è un triangolo degli Illuminati E anche a me è sparato A me è sparato due volte di figlio Nel Mirino Nel Mirino Nel Mirino Ciò che arma è Galil Galil Con l'incidenza? Io credo Non si, io credo che c'è del seno solo con l'incidenza Ma Adan Khan è morto Chi? Adan Khan Camion Non ci sono gli Illuminati Vabbè a questi anni gli Illuminati non gli fanno causa Ma Tupac secondo te non ci sono gli Illuminati Secondo me questa è una bella cosa Secondo me Tupac ero uno Shakur Secondo me Tupac è bravo Come Michael Jackson Che fanno? Come Michael Jackson Io ho sugli dei tipi il be' te però Sì sì certo Io sto pure qui Giuro mi suicido Guarda se un anti-grib to via tutti i colpi di questa merda Sparati sui piedi e suicidati e poi io mi uccido Voglio avere... Ma gli faccio danno anche con questa merda sui piedi Certo Eh no chiediti prima te Sì io non sto qui Andiamo... Vieni 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 Andiamo a fare l'ultima resistenza in un posto strano No 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 L'avevo capito Sì lì dalla cassa Dandiamo E' bello che io ci stavo perso per vivere davvero C'è no 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 Quando ero più di uno Dai Love me harder Love me duro E quando te lo dico spara con la Wunder almeno Ok Sparati che spara con la Robin Sdraiati sdraiati che spara con la Robin Stai ricaricando Vai dentro di mortale C'è la Robin Vale se che non mi ti metti davanti Se no ti riesco a sparare con la Robin Eh eh non la c'ho mai R1 Stai ricaricando tutto Uccidi con la R1 Non c'è io Non c'è io Non c'è io C'è io sono la manapaggiatta su R1 Uccidilo Eh uccidilo figa Non c'ho le armi due io eh Buon amore Uccidilo Muore Un mappa che implode Noi ce la facciamo arrivare a Run 200 con questa tecnica Sai come se avessi i miei colpi infiniti ce la facciamo Sdrai Non s'imperarsi Hai colpi da un suonente di lui Prega Ma non muore mai il cane di merda Tutte le finestre sono state riparate ho finito i golpi del Galileo e adesso andrò avanti a... e ha finito i golpi del Reagan a correre il muiccio, si, si, si si, cazzo si ma basta che due questioni no, non scappi non riusciva a capire nulla, ero sto diritto salvami, salvami spostati da dietro, spostati mi farebbe comodo una mano si, ma figlio dai sei uno strozzo, non spari i dolci? dai però sei strozzo chi è già salvati ma basta tutti i bombi infiniti, ma boi ma sto sparando 42 corpi non scappare non puoi non ti vado più dietro, non ti cerco più di bloccare tanto ormai non possiamo riuscire no giuro, intanto non possiamo morire perchè appena mi chiedono io ho sparato anche con questa ma perchè mi ha ucciso lo stesso non ti fa l'altro c'è la piettela vabbè oh ma sono recuperato con i kill come? come ho fatto recuperato con i tanti kill? non lo so almeno va che finita non ciò che mi fa nella schiena come? bella ragazzi ecco la exo bella ragazzi ciao aspetta non andare via non lo trovo vabbè qui da tupozzi è tutto spero che il video vi sia piaciuto anche da davis che non riesce a trovare l'altro ha bisogno bella ragazzi ciao bella lasciate un mi piace se arriviamo a 10 mi piace totali nelle 20 parti che abbiamo fatto di questo video ci sarà il ritorno di Dead Ops Arcade insieme al porn vero? chittà ci acconsente quindi ci si ah è offline bene chittà ci acconsente quindi a 10 mi piace ritorno della Vin Diesel Challenge con il porn che adesso sparirà da papozzi è tutto anche da porn e ci si becca alla prossima bella ciao